Dottore, noi abbiamo appena chiesto al dottore Gabrielli qual è lo stato di salute dei confini italiani, a lei chiediamo qual è lo stato di salute in termini di sicurezza della città di Napoli. Beh, è una città che è stupenda, meravigliosa, ha significative criticità. Il tema è fare sempre di più, migliorare, razionalizzare, coordinarci meglio con le altre forze di polizia e fare uno sforzo che io dico, sono convinto di dirlo, sostenibile. Nessuno può pensare che abbiamo risorse illimitate. Per questo massimo sforzo sul coordinamento, massimo sforzo sulla razza e l'organizzazione dei presidi per avere più macchine in strada. Se dovesse fare una richiesta al prossimo governo in termini di sostegno, cosa chiederebbe? Io non faccio richieste. Le richieste vengono fatte dal Dipartimento, dal Capo della Polizia. Le mie esigenze le rappresento al Capo della Polizia, non direttamente dal Ministro. Le regole del gioco istituzionale sono queste. Grazie. Grazie.